ma non riesco a andare su di qua e apri esch finito esch esch non riesce a andare su di lì il pisa non riesce è la cazzata il pisa è finito 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 devi andare su un po' è quasi ecco un po' un po' un po' un po' un po'